Unità di misura l'amore introdotta nel 1971 ma dal 2018 con una nuova definizione è la quantità di materia che contiene un numero di particelle pari alla costante di Avogadro che è 6,022 per invece la 23esima. Per avere un'idea dell'ordine di grandezza di questo numero basti pensare che se noi dovessimo sistemare sulla superficie terrestre un numero di palle da tennis pari alla costante di Avogadro, pari al numero di Avogadro, ebbene avremmo uno strato di circa 50 km. Oppure se dovessimo prendere tutta l'acqua dei nostri oceani prenderemo circa un numero di Avogadro di tazzini, quindi un numero di Avogadro di tazzini sarebbe uguale a tutta l'acqua presente nei nostri oceani. Se dovessimo contare il numero di Avogadro e ad ogni numero dedicare un secondo, più o meno ci vorrebbero 10 volte l'età dell'universo che è 13,8 miliardi di anni.